Sì, la direzione è andata di questa, è deciso, sì, allora dobbiamo andare dritti per dritti dobbiamo andare, ok, e lì c'è la base che ci dobbiamo salvare, vieni, attraeremo a me, quella lì è la base che ci dobbiamo fare, la faremo qua, ce la faremo a me, ma che bella con l'alto, la vedi, direzione giusta, sì, scendi, qua qua, ok, sì, oi, quanto campo, livello 5, ok, aspetta, perché ho perso la spada? No, non puoi perdere la spada, la spada non si perde, dove stai? E si finisce, vieni qua, 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 ti ho visto, ti ho visto, qui. Allora basta ce la faremo qua, devo solo prendere un po' di ... Cos'è che era il turco questo? Allora crafting, vieni qua, bisogna 5 di pietra. Per far rifarmi solo. c'è questa casa guarda che c'è questa casa quest'altra quello è il 32, quello è l'altro 3 in fondo, guardiamo che ce ne stanno allora crafting, questo lo facciamo, poi mettiamo questo qua ok farm solid, come cazzo si produce? allora, no n, graffiting perfetto, si cominciava a... allora, string, no ah, short core, vabbè intanto qua ci possiamo poter trasportare, andiamo vieni non ci dobbiamo andare a liberare i pistoli andiamo intanto qua ci possiamo poter trasportare, qua c'è un tesoro ok, la nuova è la stamina, te la vuoi? te li metto dentro, aspetta non si fa passare la roba, teni qua e' da ieri che non uscio letta ah, dove 17 per... oh si ora si no, se no guarda quanto è grande questo porto, hai visto quanta roba c'è? eh qua si bloccati questo, lo stai se moriamo ah no, stai andando giusto, hai? non è che ci basti via la strada qua bastardi, sono fatti tutto il posto no, ma vedevo la strada ok no devo andare, questa è quella cosa gialla, vedi? dobbiamo salire, devo dare il modo di salire, ok, qua ci dobbiamo ammazzare tutti, eh? occhio alle trappole ho capito di questo, possiamo tornare in vita qua se moriamo ok, c'era il progetto qua, ammazzare questo, eh? c'era il calcio di rompino qua oh la lava, la lava, la lava, la lava, mi chiamiamola eccoci qua ah no, devo liberare il tizio, vieni, dovevo capire la ragazza sta, vieni ok, io l'ho già fatta questa missione, te la segno a te, lo eh, capito? vediamo, se la stessa bisogna continuare a salire, di qua provate no, sto guardando se c'erano altre salite dall'altro lato no, di qua, di qua alla salita, infatti che c'è una discesa addirittura dov'è andare dove? ok, qua c'è un pietro del calcio si, ce l'ho non si guarda giù? no, no, sto cercando di capire dove parte sarà qua allora, sono sopra c'è una scala segreta, ma non c'è la porta io li non c'ho ma qua non c'è un cazzo, sopra non c'è un cazzo cos'è questo? chissà che c'ho non c'è un cazzo 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 qua, qua, qua sto cercando di capire come si fa a fare qua sopra, vediamo adesso qua, ad abbattere questa no, dobbiamo usare no le spade per abbattere questa, voce eh? no le spade, dobbiamo usare la ok 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 ma che cazzo è a sto posto? eh ma questo è duro guarda dove cazzo siamo usciti qua dove cazzo c'è? è all'entrata, guarda dove era la scala ah, dobbiamo usare la scala e qui non c'è la scala e qui non c'è la scala e qui non c'è la scala sa salita io mi dice localizzazione è blu vieni 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 fai qua, questo è qua non c'è la scala bravo bravo stavo salendo ah, qua che cazzo c'è? speriamo, speriamo eh ecco la libera l'attivizio questo ti fa fare quella cosa ti libera l'ottimista eh no, uno con la barba non penso che ci sia niente aspetta, ripara qui ripara qui qua allora, ci abbiamo qualche messione vicina? no aspetta, ci sono sale che scagolano ancora? c'è un caccello qua c'è un caccello qua sopra perché? vieni no, per lanciarci ah no, non dobbiamo andare no, la lava e che mi dice la location below? beh non andare sulla lava ma dove c'è? no, vabbè dove eravamo prima oggi ah, bisogna dire ok, adesso dobbiamo tornare alla base da che volta ci è andato? a quale base? ecco perfetto, adesso potrebbe dare la missione allora vediamo l'alto anello che mi ha dato questo hai visto il tizio sommonato? guarda, spazzatrice qui questo è il tizio nuovo ah sì ah sì eh, però io devo fare allora, dobbiamo creare questo da lo, 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 Greenling Stone devi ricreare quello lì quale? vieni qua, vieni qua ucce, da lui, parla con lui ti dà, vedi? production place Greenling Stone devi fare questo l'avete ripetito io allora, so già dove sono qua quante ne servono? Greenling Stone Vieni quanti ne servono che cosa faccio io? 10 e 15 ah, servono 10 flystone e... stone e 15 ok, arriva aderci guarda per le tattiche aspetta, vediamo fermi il sole come si costruisce fermi il sole ok vai, te la passo Sto a 11 Eh ma io c'ho ancora sul giornale la missione di prima Farmi Soil Eh beh ma questo dimmi se ti basta o devo fare ancora Per creare qualcosa Eh non me le danno guardate C'ho Devi costruire qualcosa Ce l'hai le cose o non ce l'hai Devi costruire il Green Wingstone Eh lo so ma non me le fa costruire Perchè non finisco di costruire l'altro capito No ma i Green Wingstone ti servono Dieci di Flintstone e dieci di Stony Che per te sta dura Perchè ho sbagliato Dieci di Flintstone e quini di Stony ti servono Si Perchè sta badendo Perchè ho sbagliato Ce li hai o no ce li hai o no Non le posso fare io che a te capisci Si graffi Si si tutto apposto Ce l'hai o no? Guarda me l'ha fatto fare Guarda la spazzatrice Ok Ok Eh mettilo vicino qua Qua dove sta lui Se l'hai creato GIF Perchè non me lo fa Non lo vedo più Non lo vedo più Prima lo vedevo Adesso non lo vedo più C'era nella borsa no? Eh lo sto L'avevo creato Sono andato per fare Con la barra spazzatrice Non lo vedo più Secondo me ce l'ha nella borsa Controlla bene che ce l'ha nella borsa Se l'hai creato Se non l'hai creato Barra spazzatrice B di ricrema per andare all'inventario Ok Per poggiarlo come devo fare Quando ce l'ho nella vita? Perchè lo metti negli slot Delle armi Che ne avete l'appoggio Ok Momentanemente faccio così Anche se è eccezionale Mettilo qua vicino Qua dove sta lui Qua dove sto io Ok Ho fatto le armi Non lo vedo 1,2,3,4,5,6,7,8 Niente Non c'è Perchè mi fai questo? Allora Allora Che numero finire? Ah sotto Deve finire Allora Premere il numero 6 Esatto No Quello che cazzo c'entra Questo Eh? Il running stone Deve fare Questo mi ha fatto fare E questo che cazzo c'entra Guardi Il running stone Questo per la base Ce l'abbiamo già Sarebbe questo Il running stone Deve fare Io lo devo rimuovere Aspetto Graffiti Graffiti Devi fare Quello che ti dà questo Grinding stone La vedi? Allora Caccella Delette Sì Ok Lo riposto La vedi questo Che ti dà Una recipe Si chiama Grinding stone Questo Devi fare Madanani Grinding stone E' una cosa Per tritare le ossa Praticamente Sì Una ricetta Che ti servono 10 di clean stone E 15 di stone La vedi? Si Adesso 9 Eh Non lo so Perché mi ha fatto Costruire quell'altro Eh Sì Non lo sai perché Allora Torniamo Allora Quanti Te ne mancano Quelli prendo Allora Flintstone Deo 9 E stone Deo 1 Come si chiama Questo coso Greenstone Flintstone Sarebbe una pietra Che città Qua fuori Ah Eccoci là Arrivo E' una pietra E' una pietra E' una pietra Sì Sì E' una pietra Aspetta che la faccio Mario Aspetta che dovresti farle pure da solo eh Per cazzo stai? A prendere il pietra Vieni 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 Che ho fatto io No Non lo farei qua dentro Perché se lo rompi E rimane a letto Allora Vieni vicino Vieni vicino Vieni qua Allora Allora Vai Vieni Ok 22 Ora Arrivato Su Allora Flamme Altar No Come si chiama Sto coso? Greenstone Sto coso? E' una pietra E' una pietra No perché mi sto un attimo incasinando Non so come Che cosa devi incasinare? Premi questo Odizio Greenstone Greenstone Ah aspetta Che cazzo devi fare Difficile? Allora Premo questo Giusto il tipo Greenstone Premi spazio Che cazzo c'è Difficile? Non ti capisco Ehi ma non mi dà Greenstone Mi dà il vaso di prima Greenstone ti dà Ok Quando lo faccio si Quando vado ad aprirlo Crafting Ok Vado su Costruzione Crafting Crafting No nessuna costruzione L'hai fatto? Dovresti prenderla e metterla Non mi fa niente Cioè Cioè parli con questo tizio Vai su Greenstone E premi spazio Non mi fa nient'altro Greenstone Craft Ah Eh no Tutto qua Era niente eccezionale Non lo so Mamma mia un'ora Per fare una stronzata Si ma mi sciva l'altro Non so perché E perchè ci non parlavi col tizio Però ci riuscivano Eh di nuovo beve Allora Metti il coso Nello E lo piazzi qua Ok Mamma mia Non era per fare una cosa Stupida Graffi Vai Aspetta Ho sposto un'arma Greenstone Ok Grazie Grazie Questo è vicino a lui Vicino a lui Si si No no L'ho attaccato proprio Tipo qua Guarda qua No Mettilo lì Va bene Va bene Va bene Troppo distanza No Va bene lì Vai Piazzalo Vai Per piazzarlo Eh X No Che ne so Bravo No Qui Non lo sposto Devi cliccare con il mouse Eh Esatto Boh Minchia Lotto difficile Adesso Abbiamo metterci le ossa Allora Graffi Ce l'abbiamo ossa Adesso La ossa La ossa Ma sta Il bone mall Vedi Ok Si sta creando il bone mall Il bone mall Che ti serve per fare Il farming soil Capito? Il farming soil? Si Questa Vedi che ti chiede il farm soil Eh Si Ce ne ho 12 E ti serve Il bone mall sarebbe Le ossa macinate Più la terra E Più la stone Esatto Una volta che tu vai il farming soil Puoi fare il seabed Grinde stone Basta Basta Devo aspettare Ah Si Se ne servono 10 Quanto ne fa la volta o due? Due o la volta? Eh Non aspettavo E per farla andare cosa bisogna mettere lì dentro? Niente Basta che la metti Metti la partenza Vedi che c'è il tempo? Si Ma per produrla cosa devi mettere dentro? E quello lo pighieri per metterla Ok Vabbè Ok Due Eh Non lo aspettiamo Babu Su Si è scaricato Dal tempo che aspettiamo Ne fa una tradizione Vedi? Allora Dobbiamo andare Ok andiamo qua Un po' Un po' Un po' Un po' Un po' Il Allora Altiero come lo facciamo? Quanto si bambini Vieni vieni ci manca qualcosa in quella direzione della torre si, però è impossibile, devo trovare un'altra torre, perchè è impossibile questa camminata vabbè andiamo all'uncent spire, sempre la stessa torre di prima secondo me manca qualche torre, perchè è impossibile dobbiamo sbloccarci quella torre, la vedi? si, vado a me che ero all'epodo eh? ah stai parlando del fondo dai bravo eh possiamo arrivare qui l'entrata il sid occhio non cadrà dentro ok, puntiamo quella casa lì un po' la strada vedi? puntiamo la strada poi andei nuova locazione cartel vai allora c'è un burrone sotto io vorrei capire dove sei io vorrei capire dove sei non ce lo stai vorrei sapere pure io che cosa stai dove sei? dove sei? dove sei? dai che mi stai andando a me vieni 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 che stai giusto, vieni aspetta aspetta che c'è una cosa qua flammyshire con l'esce si si no dobbiamo andare avanti ok c'è un paesino qua di merda si si no dobbiamo andare qua guarda c'è una missione qua vieni 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 ok tizzi non mi avrete mai ammazzati ucce perché si stanno ammazzando ma io me ne vado ma devi venire da me però devo capire verso la torre e ciò ma perché non stanno indietro dove andassero? guarda dove è? vieni seguimi andiamo vieni stai a me vicino che ti ti curi e se la cavolo sei ah e se le ho ripreso si e? e se le ho ripreso? ma ora non cava no non cava nessuno che cosa e sempre da me venire a rompere i coglioni eh si è vero una molla di a merda di Teo c'è vero è assurda andiamo andiamo e passate a dobbiamo andare C'è una grotta qua. Oh è morito eh. Oh più che una grotta guarda che c'era eh. Noi dobbiamo andare a sinistra però. Noi dobbiamo andare qua, ma è una missione, una grotta sinistra, devi cercare di salire, vieni. No. Cosa è? Cosa è? Adesso ero caduto giù. Cosa è lì che sei caduto giù? Eh. Cosa è? Vieni. 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 Non mi caga. Vieni. Eh non ti vedo. Ah ok. Vieni. Vieni. E qua, come ce la fai? Posso vedere qua. Di là dove devo andare, vedi? Ok, ora stiamo scendo. Allè, qua mi dice la missione. Puntino giallo sopra? Si me lo tasto sempre fisso con... Ok. Vi ho ammazzato tutto questo qua. Eh non è nemmeno male questa cosa. E qua, l'occasion va buono. Si si, vai vai, vai. Parla, parla, parla. Ammazzati tu, vieni. Vediamo. Ma non... Aspetta c'era uno con la motosega qua. Dove cazzo vuoi andare? Pezzo di schifoso. Questa me lo ammazzo io. Eh? Tu devi fare la missione, me lo ammazzo io. Allora. V. Allora. Qua. Ok. Quello deve essere un ammalato al boss, eh? Uff. Perché mi ha fatto scedere? Ok, andiamo. Ok qua, qua dentro. Qua se non sbaglio io, o se... Aspetta qua, devi venire a leggere il couch. Aspetta. Leggi te, vai, lì sembra da pure a mano la missione. Vai. Ok. Sì, sì, sia se lo faccio io che lo faccio tu, Allora, tutto giù c'è da missioni, eh? Buona sta cosa. Allora, dove sai che siamo? Allora, adesso dobbiamo andare qua. Sì. Falla pure qua come base, eh? I pezzi di ferro non li piglio, eh? Ci facciamo i piazzi. Ma io li... Oh, c'è qualcuno che spara? Pezzo di merda. Pezzo, pezzo, pezzo di merda. Ok, raccogliamo tutto. Qua c'è, eh? Qua c'è, eh? Beh, qua c'è un po' di roba, mi sembra. Sì, capi, capi, capi? Questi ti fa... I pezzi di ferro ti fa fare le... Eh, quelle che ci servono. Le chiavine, vieni. Allora, c'è quella strada, buona. Vedi che c'è la pulsera in alto? Sì. Ti fa vedere il giallo, il punto giallo dove hai, vedi? Vedi? 25,4,2,1 metro. Dice, la locazione è raggiunta. Eh, adesso è qua. Eh sì, è qua. La locazione è raggiunta. Bastava leggere qua, posso farla anch'io? Vedi, te la dà anche a te la missione qua. Ok, adesso, sì. Abbandonate il campo. Ok. Mi sono fatto. Sta fregato. Devo andare adesso? Aspetta, devo leggere. Ok. No, no, quando è rosso devi leggere. Quando è intermodo devi leggere qua. Allora, come cazzo, andate. Devi andare qua. Qua. Questa roba cosa. Ok. Campo Fire. Ok. 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 Sì. E non vado a volare salta e prendo la pietra, porca Ewa. Hai sbra tutto con la testa? בה. Io l'ho entrato. Questa cos'è? si si, ho il test per questa trappola eh oppo cos'è quella cosa brucia merda ma bisogna centrarle eh questo questo no questo è piccato oh poveri che moto eh quello ci vuole uccidere no questo è aspetta qua è un materiale nuovo a te si per me no eh no per me si aspetta eh mi ho oh cazzava troppo no qua il pietre non ci sono vaffaculo e no che di solito quando faccio il mezzo saltino per volare c'entro o gli alberi o le pietre porca troia devo vedere se c'è una terra ce la dobbiamo fare se noi ci vuole fare il viaggio allora millimetri forca trotta oh ce l'ha non è la torre quella devo vedere quelle torri nere allora quelle torri nere dove c'è in alto uh guarda chi c'è se c'è in alto pocciare se c'è in alto o che l'ha dell'in alto adesso si se c'è in alto adesso per me no dovevo andare? no di qua ci siamo già andati dobbiamo andare... ahhh dritto ma tu hai dovuto arrivare? io non ne vedo qua ma non ne vedo niente ne chiedo allora per attraversare il qua a destra vieni non ne vedo ne chiedo di qua ci siamo già stati qua si ma infatti non mi sembra zona... e volare si c'è il ponte vieni vieni ehhh non so che dobbiamo salire più forte ehhh dobbiamo passare di là da qua è la torre? ehhh come cazzo ci arriviamo? se vi resta il ponte dirò a destra vieni ci arrivo proprio io la torre altrimenti non c'è il local di viaggi vieni dove si entra questa torre? ok, la davano... dai, ora sono girato... aspetta ci sarà ogni volta tu devi fare il viaggi è sopra lì ecco qua ok no qui c'è le tracce che ci investiamo allo? no qua c'è nessuno a destra e dentro qua? eh sì dovremmo no ci veniamo dopo qua tanto andiamo di visto e ti pare che il cane non capitava a me basta basta faccia faccia ok ok aspetti se riesce a scendere guarda c'è finito ok qua c'è esplosio qua eh so io ma adesso l'ammazzo io ancora ancora mi ha un cattroio sono spazio stranzo ah ti divertivi? madonna ma massacrato e poi avanti lì spara eh sì ma vado a andarci con vita allora devo saltare qua dove c'è finito? dove cazzo sono? eh non lo so ti basta saltare qua non sai dove cazzo si è finito come fai a uscire? sono come esco da qua? allora ti dovi tele-transportare perché se no ci muori eh sì eh a premiem tele-transporti dal punto più vicino sarebbe ancient spire willow crash no? ancient spire uffana uccio no da l'anno qui esci a me la ve no non ce la fa non ce la fa no non ce la fa ce la fa tele-transporti come si chiama il posto? ancient spire e quello è più assurdo da dove eravamo prima come l'interno willow crash mi da vicino perciò ancient spire è proprio vicino assurdo è un esempio non ce la non è un esempio non ce la fa palle dove era la torre infinita dove cazzo ero dove mi butto da la torre è una volta che mi è capitato ancora oggi non vedo allora io seguo sempre il puntino aspetta ma io potrei a creare il punto lì può parmi dio per un pelo allora m allora mi meate mi meate fast travel ok vediamo se è popolato io ti vedo già qua città quello lì che possiamo mettere possiamo mettere massimo 5 capito qual è il problema per questo ci dobbiamo fare le torri le torri sono buone che sono divise sulla mappa invece e poi come cazzo fate cadere lì in mezzo allora guarda come faccio io vedi guarda infatti che puoi venire pure di qua guarda allora devi semplicemente guarda alzare e spla ok poi parti così poi quando lo si aprirò poi fai così salto qua sotto e vai dritto e salto qua piano quando lo si aprirò cosa vieni qua ho c'è oh c'è oh c'è anche le pantecane mi devono salire se non ho capito no c'è qua dentro vieni ucci tesori vieni qua solido vieni qua con te non c'è un cazzo no oh c'è le pantecane mi muocavano le pantecane mi muocavano ma c'è qual è la torre le di torri tu 500 500 500 metri ma quello è il fronte della missione io per le torri dovevo perchè vedevo eccolo qua eccolo qua il cicchiale eh l'avevo visto ah mi ha ferito qua cinque è stato bello dopo via ci abbia un po' fatto da notte c'è stato bello vediamo in ora vediamo Grazie a tutti. Aiuto. Spostati. No, vabbè, non fa un cazzo adesso. Eh? Non fa un cazzo. Basta, non ne posso più. Non ne posso più di questi cani. No, mi ha ucciso proprio. Vedete, vai, è troppo a cazzo duro. Eh no, stavo cercando di curarmi. Oh, mi ha ucciso di nuovo. Cosa mi ha ucciso? Sì, ma cosa mi ha ucciso? È il fizzuto che stava all'altro. Ma no, che cazzo. È il fizzuto che stava all'altro. Oh, che cazzo fai? Che cazzo? È di nuovo. C'è un fizzuto. C'è un fizzuto. C'è un fizzuto. C'è un fizzuto. Non ne è vita. Non ne è vita. Andiamo. No, basta. Mi sono rotto in cazzo. Siamo da questo posto. Eh, ma dobbiamo stare qua. Eh, io devo stare qui. Ma dobbiamo andare di là. C'è un fizzuto. Adesso c'è gente che spana. Ma dobbiamo andare di qua. Vieni. Basta, uno è un avuccio. Uno, non serve una 40. Occhio che c'è l'effusione. Dove cazzo è? È andata, mi stanno andata. Dove è finito? Ok, dobbiamo andare di qua. Vieni qua. Dove è fare notte. Oh, aspetta, aspetta. Non ne è uno qua. Basta, prima che muori. Beh, vaffanculo. Pure il cane, no. Eh, che cazzo. E' un cane, e i topi, e... Il cane è ammazzato, eh? Sì, l'ho vista, come ho appesato dietro. Ma non mi mollava poi. Cos'è questo? C'è una trotta strana qua. Occhio, non c'è nessuno. Noi dobbiamo andare di qua. Occhio, ora c'è il pizzo. Occhio vicino alla mina. La scala? Eh, robina, robina. No, noi dovremmo andare su. Montare qui su. Sì, la scala, bravo. No, perché mi sto sgonciando? Perché si è ridotto il cane, mi ha messo paura. Aspetta, c'è un cazzo di cane qua. Oh, il cadroio. Non mi ha mai capito. Eh, non si sa mai. Il cadroio. Il cadroio. Il cadroio. Il cadroio. Stai vicino. Occhio, ci curiamo. A te la ti faccio per dopo il deposento o ti faccio per me la cura? Ma voi... E te pare. E te pare. E te pare. E te pare. La guatto pure dai cani. Capito. E te pare. E te pare. E te pare la twigs. Ok. Vediamo se facciamo trovare le twigs. E' giusto la strada. Quale è il funghetto all'ucinogeno? Allora, Lucio. Adesso mi... No, no. Prima di andare devo creare la twigs. Aspetta. Quanti come ne fassero pure a te, Lucio, la torcia. Perché adesso dobbiamo, praticamente, entrare e correre. Non dobbiamo combattere, capito? Ok, prendo ti la messa e fatti una torcia. Anche, faccio così, guarda. Tieni, ti ho la terza e me ne prendo una nuova. Allora. Da serve la torcia? Sì. Eh, io non ce l'ho i twigs. Non ce l'ho, se ne ho questi. Allora. Vieni, fammi lucire. No, no, non ce l'ho i rametti. Vieni. Ok, non dobbiamo combattere. Devo correre in avanti. Poi, se ti combattiamo, te lo rispondo io. Non ci sto, ti combattiamo. Ok. Poi, ma mi ha ignorato. Eh, eh, eh. Ignora a te, però viene da me. No, no. Eh, finché uno. Allora, qui qua. Scendo, mi fa. Sì, vieni. Beh, para per ogni tanto. Para per ogni tanto. Ma te curati, te li parà. Allora, se tu ti curi, allora, se tu ti curi, mi si attaccano, ti sfondano. Sì. Non c'è qua. Al fondo, non ci serve qui. No, sono morto. Perché sono morto? Perché vado a suddicare, non moriamo, non possiamo andare. E quando moriamo... Allora, praticamente, aumentare il costo dell'altare. Vieni, vieni qua. Bravo. Eh, no, non passiamo. Dobbiamo aumentare il costo dell'altare. Alcune dov'è una altra strada, vieni. Carne di merda. No, no. Dovete una altra strada. Dobbiamo aumentare l'altare, ma è solo di poco. Non c'è la altra. Vieni. Fammi luce. Allora, poi tremmo. Poi un'altra metà. Non mi dare i twigs. Non mi dare i twigs, oh. Mi dare il legno grosso, vabbè. No. Non fa niente. Allora. Allora, uscita, ci dobbiamo lanciare diritto per diritto. Ti faccio vedere. Vieni qua. Ok. Fammi luce, non bello un cazzo. Non è un twigs, pazzo. Questo non vuole darmi twigs. Ecco di qua. Vaffanculo, non bello con niente. Allora, crafting. C'è un cazzo, ok. La torcia, lo stacqua. Fani? Eh, niente. Niente, Fani. Ecco allora, vedi la cosa? Dobbiamo darci a prendercela. Uff. Vieni qua, vuoi il signore. No, no, no. Sì, sì, ciao, bello, ciao. No, stavo andando in un tutto il sotterraneo. Vieni, vieni. No, 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 sì, esci, non ti preoccuparti. Stanno espondendo qui. Eh, lo vedo. Beh, a prenderci quella cazzo di cosa. Cazzo di cosa non ce la pigliamo. Vieni, 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 vieni qua. Non è quella la torre? Come si? Eh, i cazzo di cazzo di cazzo di cazzo. Cani, no? No, no, sono alci. Ma se non mi attaccano? No, 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 no. Ma dove cazzo è disceso? Tiri, 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 tiri su, bravo. No. Tiri, 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 tiri su. Cazzo. Fermati, fermati. Tu cazzo, tiri su. Sto secondo te. Eh, dovete non essere caduto, però. dobbiamo trovare il modo di salire adesso allora dobbiamo risalire e andare di là no vabbè pure cinghiale di merda scappa 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 ora vediamo ecc ok 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 questa è un macello di carriere che strana, guarda che c'è un macello anche la storia è questa dobbiamo, vabbè, fa male estremo di me minchia, è impossibile c'è un macello di carriere, c'è un macello di carriere e da dove? se no salvo io vabbè, se no salvo io ti faccio il coso ma dai la stamina, cazzo vabbè ok ok ti faccio la scaletta, vai fai la prima qua e poi qua vedete che faccio la spalla ok, vedo appena c'è la stamina bisogna un po' più profondo oh, vedete ok, uno, due poi questo ok, vedete, un po' tre bravo stai lì aspetta li! aspetta li! aspetta li! aspetta li!��vi dai! vai! dai lì basta saltare lì qua! aspetta qui ti faccio l'altro Fai un calmo, fai un calmo, fai un calmo, ok, aspetta che faccio un altro, non lo vedo l'oggiorno, fai un po' di stomio, ok, vai, aspetta che stavo, non lo vedo 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 ok, aspetta lì aspetta lì aspetta che stavo un po' qui, c'è il piccone del due colpio ok, aspetta che arrivo non lo vedo e non vedo niente ok fuori oh aspetta oh c'è un mostro assurdo eh vaffanculo eh picchia mi stronzo mica questo è più forte pazzo è più forte vero? pazzo è bello giro devo cederlo in vita cosa è questo? torniamo sulla strada allora Lucio io direi facci la basetta tu che dici? non vorrei spiegare questa fatica qua eh anche perché c'è un sacco di roba io allora facciamo così aspetta che mi cura vediamo se ho finito le band un buro mi sa che l'ho finita e tu qua ok vabbè facciamoci la missione andiamo anzi no torniamo a casa allora torniamo a casa torniamo a casa ferma e qui c'è la roba M Metti giù la roba Metti giù la roba Eccolo Uccio, eccolo che arriva l'eroe Ci stai imparando piano piano Poi se c'è qualche missione che devi consegnare Sì, devo fare sempre il distorno Allora, la terra va in un po' qua Allora, questo è pieno Ok Questa è la margherita Allora, la terra va in un po' qua Grande Questa è l'acqua Questa è il bonewall Ok Uccio, puoi farlo, eh? Che sì, bello Allora, ti serve No, vuoi fare lo sonic Tra i di bonewall e la sabbia Te la sabbia te la prendo io La sabbia c'è già qua Sì, ma te ne prendo una smosta Allora La metto nella cassa magica Così non c'è bisogno Tutta la porta Ok Allora Il bonewall te la metto pure nella cassa magica Così ti puoi fare le cose direttamente Allora, eccolo qua 50 Le metto nella cassa magica Aiuto che si fanno le cassa magiche Così non hai bisogno Allora, vai qua la costa E fai Farm soil Fai farm soil spazio E te lo clasca E poi dovrebbe farti fare il seabed Farm soil 10 E poi 10 E poi ti fai il seabed Il seabed Lo spavedi qua Lo spavedi qua Dove sei? Il seabed l'ha fatto? Eh sì No, ma non c'è il seabed Eh, lo devi fare sempre da lei Lei te lo fa fare Tanto tutte le cose Stanno da cassa magica Non ho bisogno di prenderle Il farm soil mi manca Eh, fattelo fare da lei Ti ho dato i cosi Per fattelo fare Faccio io Uccio, vai Te lo metto nella cassa magica Io ho fatto fare cosa a te Allora Eh Dai, farm soil Te lo faccio Bene mio Vai, farm soil Vai Te lo metto nella cassa magica Vai Fallo Vai Te lo metto nella cassa magica Vai Ciao Uccio Uccio Mi ha bisogno di prendere la redda Se stanno nella cassa magica Se la piglia nella cassa magica Devo fare craft Sì Bravo Craft E lo fai qua Ok Poi una volta Una volta così Lo spostiamo E lo mettiamo Ah beh Una volta che lo crei Quello sposto io Non so qua No Lo metto a posta delle armi Per metterlo giù Sì Allora Numero 5 Ok Puoi girare con Colore pallino Così Qua ti all'angolo Ti all'angolo fa qua Ok Vai Bravi Questo praticamente Ti fa fare i semi È levati scemo Questo qua ti fa i semi Praticamente Hai presente la frutta che trovi in giro? Eh Se tu ci metti La frutta che trovi in giro Sì Allora Tu prendi la frutta Un po' di terra Lei che ti fa Un po' di terra Un po' di acqua Ti fa i semi Praticamente Ogni cosa che trovi Ok L'arco Lo rimettiamo giù Vabbè Adesso Mi metto Di che Eh Pure Io Ma tutte le altre Le altre cose Che erano qua Quale altre cose? Le casse Le casse Io per fare la cassa Questa grossa Ah E poi un po' di tutto qua Eh Allora Le pietre Vedete come gira la magina? Sì La vedo Magina Maiuscola Allora Apriamola Ok Apriamo questa La spark cos'è? Cos'è? Cos'è la spark? La spark? Eh Ah La spark Quella ci serve Per Per aumentare Questa Ah Prima di andare Quanti punti skill hai? Skill 9 Allora Devi prenderti Il doppio salto Double jump Double jump Grazie Survive Athlete Ah Devo andare proprio Sul cosino Per vederlo Sì Tu hai praticamente Endurance Runner Già presi Giusto? Sì Lumberjack No Ma Lumberjack Lampiere punti A cazzo Devi prendere Double jump Double jump Ok Una volta che lo clicco sopra cosa devo fare? Eh lo prendi E in che modo lo prendo? Come dire in che modo lo prendo? Ce l'hai punti? Eh mi segna 9 e qua mi segna 4 9 I punti ci vuole per il double jump Che va strano Eh? Allora Devi solo cliccare e prendertelo Double jump No allora vuol dire che non sono Allora quanto è? 0 di 2 5 di 9 Allora I punti quali sono? Lo scudo in alto Clicca su double jump Dovrebbe dire quanti te ne servono Allora Mi da 9 verdi 9 bar Non lo puoi prendere? Non lo puoi prendere? Vai Eh ma come? Con solo l'invio Non lo fa prendere nessuno Non lo trovo? Nel cazzo lo sai? Tu giovi con il Joker Con l'invio Prova Nel cazzo lo sai F Eh Dice Quando dice un locker Vuol dire che l'hai preso Skill Un lock Devi andare un lock C'è il tasto un lock Con il mouse Deve andare col mouse C'è tutto un lock E' solo figlio Doppio salto Non lo fa fare Double jump Doppio salto E' solo mod Vole andare col mouse E fare un lock Luce Scusa mi condividi la scherma Lo scopri Sì Io voce posare la scherma Non ho capito un pezzo Allora condividi la scherma Lo vedi? Sì Lo vedo Allora E' per prendere la double jump Eh Ma quando io lo vado Allora prima di la double jump Devi prendere Ecco Quello è il problema E' questo non capisco Perché Allora Allora Devi prenderti runner Prima di double jump Runner Non puoi andare a sinistra No Perché vai in assassin Devo prendere Jump attack No 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 Ma dove esco a fare Sì Dimmi Eh Allora Il primo che hai preso Come si chiama Solvalgo Poi runner Prendilo Runner Prendilo Unlock Vai Ok Poi gira a sinistra E prendi Allora Se tu non segui la linea Non puoi Capito Ok Quindi Devi andare giù Jump attack Lo posso prendere? No No Jump attack Lo prendi dopo Allora Andiamo sull'healer Prima Allora Devi andare giù Allora Vai piano piano Vai giù 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 Ok Allora Vedete c'è scritto tank Ok Tank Più a destra C'è scritto Battlemage Ok Battlemage Più a destra C'è scritto E Alive Ecco Devi prendere Quello sotto a healer Lo fa pigliare Questo Intelligenza Intelligenza Unlock Ok Prendi healer Sotto la fa pigliare Due Giusto Giusto Basta Finire Poi dobbiamo scendere sotto Per far pigliare Altra roba Aspetta Adesso Fa pigliare Giusto Sì Sì È giusto Quello Intelligenza Il Il Dobbiamo andare di là Ok Sì Quello è a ramo Adesso Vieni fuori con me Ti faccio volerlo Aspetta Sto finendo Devo sbattare Ok Allora Se tu Quando salti Premi un'altra volta Ti fa un altro salto Vedi Adesso salto a fin alto Salto di più Sì Invece adesso faccio un salto E faccio due E faccio due Poi nel ramo che ti ho fatto prendere Qui sotto C'è Vedi che c'è Water Aura E' il disegno della goccia Dell'acqua Sì Eh lì dobbiamo andare Ah Appena c'è i punti Sì Willard 2 Intelligence E prenderemo Water Aura Allora Comune Flamme Eh ma ci siamo I punti Ok Va bene Va bene Finisco Mi svuoterò Quando mi rientro Dai Ok Grazie mille Ci vediamo Alla prossima Ciao 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 A tutti Ragazzi